Non la prima, forse non l'ultima odissea per una risonanza magnetica con contrasto che nonostante fosse prenotata dal mese di gennaio in questi primi giorni di novembre non potrà essere eseguita al Cardarelli di Campobasso. A denunciare l'ennesimo episodio una signora del capoluogo per conto di sua figlia che da sette anni deve annualmente eseguire controlli che possono essere calendarizzati con largo anticipo. Questa volta non sarà però possibile eseguire l'esame, racconta la signora che qualche giorno prima ha voluto recarsi presso il nosocomio del capoluogo per accertarsi che non ci fossero problemi. Qui la mara scoperta, sono stata informata, riferisce l'interessata che da domani sarà sospeso il servizio. La storica carenza di personale, il motivo attribuito, racconta ancora la signora che si è detta costretta a fare in modo che la figlia eseguisse nel più breve tempo possibile l'esame a pagamento. 400 euro il costo della risonanza magnetica che ora sarà eseguita privatamente. L'ennesima segnalazione che si sussegue da alcuni mesi per la storica carenza di personale a cui si sta cercando di far fronte, sette i medici operativi a fronte dei dodici di cui si avrebbe bisogno. Lo stesso direttore generale Asrem, sentito a telefono, ha voluto ricordare come siano giorni di impegni fitti, una corsa contro il tempo per provare ad abbattere le liste d'attesa e tentare di risolvere le difficoltà dei reparti. Dinanzi a tutto questo resta però la rabbia e la disperazione di chi è costretto a sborsare una fortuna per un esame che la sanità pubblica dovrebbe erogare gratis.